La scorsa notte i ladri hanno preso di mira il bar Ferruccio a Ponterio di Mondolfo. Sono arrivati con un furgone bianco intorno alle 2.15 e dopo aver controllato che non ci fosse nessuno nei dintorni, hanno messo segno il furto in soli 8 minuti. Un lasso di tempo che gli è bastato per tagliare la serranda, mandare in frantumi il vetro antisfondamento con una mazza, prendere due slot machine, la macchinetta cambia soldi e caricarle sul mezzo. Una volta scattato l'allarme, una vicina ha chiamato subito i carabinieri, ma una volta giunti sul posto i militari non hanno potuto fare altro che eseguire i rilievi di legge. Infatti dei malviventi neanche l'ombra. Oggi la titolare del bar ha deciso di lanciare un appello. Chiediamo un pochino di giustizia e un po' di difesa per noi, almeno questa. Dopo che stiamo qui tante ore, per tanti anni, avere un pochino di rispetto anche dagli altri, da chi ci può far sì che questi ci rispettino, nel senso che vogliamo punirli un po' meglio per far sì che non ripetano queste cose. L'operazione dei malviventi però non si è limitata al furto. Infatti, dopo aver prelevato i soldi dalle macchinette, le hanno lasciate insieme al furgone nel giardino di una casa abbandonata a Stacciola, nel comune di San Costanzo. Indagini dunque ancora in corso da parte dei carabinieri di Fano e dei colleghi di Mondolfo. Grazie.